Pederobba, un malore alla guida, all'origine dell'incidente stradale avvenuto questa mattina. Quattro persone sono rimaste ferite. Da una prima ricostruzione l'auto su cui viaggiava una coppia di anziani ha tamponato il veicolo che li precedeva, dopo che il conducente ha perso i sensi per poi invadere la corsia opposta di marcia da cui arrivava un altro mezzo. Sul posto il SUEM di Crespano e Valdobbiadene con automedica e due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri. Forti disagi al traffico.